Buongiorno a tutti, oggi 20 marzo è la giornata della felicità. Quindi ho pensato di parlare di cosa rappresenta per me questa parola. Per me felicità è la mia famiglia e libertà. Ecco, proprio quella libertà che ci viene a mancare da qualche anno. Felicità è il mio cane, i miei quattro gatti, rientrare a casa dopo la scuola ed essere accolta da loro. Uscire a fare una passeggiata, in campagna, al mare, con i miei genitori e vederli sorridere. La felicità è andare a scuola, imparare nuove cose, incontrare i compagni, chiacchierare, poter riuscire a fare compiere, adoro fare acquisti. La felicità non è per forza avere tutto, questo me lo sono sentita dire tante volte. Felicità è accontentarsi di quello che abbiamo, apprezzare soprattutto quel che abbiamo. Sono felice quando ballo, quando vado ad allenarmi. La felicità è avere la possibilità di vivere, mangiare un gelato, raccogliere un fiore. Vorrei tanto, in questo momento ancora di più, che tutti i bambini del mondo fossero felici.